Occhio che la fix è quella del debuff che devi spellare. Sì, fatelo subito, soprattutto se siamo vicini. Siamo tutti sotto i boss, potete spellarli entrambi. Loose the witch, Anziel, e Sajen sul verde. Porco. No, ero giusto. Ma che cazzo hai detto? Io giro Anziel per grande abandon. No, ma perché pensavo il verde sulla testa, non il verde per te. Eh sì, guardate i marchi per te. Ok. Andate a farvi spellare. Andate. Un tila della creazione su di me. Picchiate il dovere, per due altre. Andate una. Ok, stop. Andate. Andate il vostro gruppo. Rune. Radiance. Radiance. Andate sotto le bolle. Mi dispellate? Niente. Non c'è stato il dispel. Non c'è stato il dispel. Eh, mi sa che ti hanno dispelato ma si è esplosato. Adesso. 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 Reincarno. Si. Faccio un attimo il dispelare. Vai con il dispel. Niente. Ok. 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 Liberate lecci, man. Grazie. Sì. Mieta si libera la città. Cura 3 seed. la soluzione è molto più alta poi con un dispel e se lo fate subito potete fare anche il secondo se no tra 20 secondi questo rinnovamento che è un po' più alto aspettate di scollare il secondo questo lo vi scollando no non c'è niente ok allora posso così voi riuscite a curare un seed prima che fasano picchiate soluzione ecco occhio a dovere che vola via perché c'è un po' più vero di vero ok fermi su ok un'altra un'altra non mi dispiace rinnovo è arrivato ah state aia sperlate al volo danno non 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 no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.